Ragazzi, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Oggi, come promesso, il mese scorso parliamo di nuovo di Baffi a Fumetti, più precisamente il reboot di Baffi a Fumetti ambientato ai giorni nostri, ambientato nel 2020. Ovviamente prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube e di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di attivare la campanella delle notifiche qui sotto per restare aggiornati sui video che usciranno prossimamente, di condividere il video con tutte le persone che amano Baffi l'ammazzavampiri e di commentare qui sotto con quello che ne pensate voi di questo fumetto o in generale di Baffi, perché no? Vi ricordo sempre che invece sul sito Viola sto facendo ininterrottamente, più o meno, le live di Watchtogether, che sono diventate live di videoparti di Baffi l'ammazzavampiri, che finalmente è arrivata su Amazon Prime Video, quindi possiamo, se anche voi avete Prime Video, guardarla tutti insieme e commentarla sul sito Viola. Parlando di Amazon vi ricordo che qui sotto trovate sempre dei link che io vi consiglio a Amazon. questi link, senza nessuna spesa per voi, potranno contribuire a sostenere il canale. Mi trovate sempre anche su Instagram e su Facebook e perché no anche su Tic e Tocche. Ma ora basta, con queste cose cominciamo, con quello per cui siete venuti qua. Baffi l'ammazzavampiri numero 2 dal titolo Anima e Cuore. Si comincia esattamente dove si è reinterrotto l'ultimo numero, se non avete visto, se non sapete di cosa sto parlando, vi metto qua e qua in descrizione l'ultimo video che ho fatto. Praticamente si era concluso, ed è uno spoiler del numero scorso, non mi linciate, quindi se non volete sapere nulla schippate perché mi devo agganciare al numero scorso. Si era concluso con un cliffhanger, c'era una persona molto vicina a Baffi in reale pericolo. Questa persona in reale pericolo, altri non era che l'anello umano della trio. Baffi, sappiamo, è la cacciatrice. Willow, per ora anche lei è umana, ma presto sarà una strega come nel telefilm. Xander ha sempre rappresentato l'umanità della gang. L'abbiamo lasciato che era in balia di Drusilla, una Drusilla molto più tenace, molto più arrabbiata della Drusilla del telefilm, quindi molto meno pazza, ma molto più cattiva e molto più assetata di potere. Questa Drusilla stava proprio per attentare alla vita di Xander, che è stato teso in agguato appunto dalla coppia Drusilla e Spike. Vediamo anche che, a differenza di quello che abbiamo visto nel numero scorso, non è proprio Drusilla a tentare di mordere Xander, ma lo lascia fare a Spike. Quello che abbiamo visto nel numero scorso, noi fan di Baffi duri e puri, è che c'era una figura che si celava nell'ombra che io ho riconosciuto come Angel. La mia speranza era proprio che Xander all'ultimo secondo venisse salvato da Angel. Purtroppo nulla di tutto questo è successo, e per carità lo sapete che sono io il primo a non lamentarmi solitamente se un fumetto non va come vorrei io, ma qui si scardinano anche un pochino le regole dell'universo che è stato plasmato da Joss Whedon nel telefilm, quindi in questa versione di Baffi ci sono anche alcune cose che non sono possibili nell'universo di Baffi. A cosa mi riferisco? Xander non è stato assolutamente salvato da Angel come pensavo, come speravo, e viene morso a tutti gli effetti da Spike, e vediamo questo numero che si apre, con Baffi che sta cercando un modo per salvargli la vita, perché Xander è sospeso tra la vita e la morte. Per chi non seguisse Baffi vi ricordo che in questo mondo, in questo Baffi verso, per diventare vampiri bisogna essere morsi e dissanguati quasi totalmente da un vampiro, e poi il vampiro che lo fa, il vampiro che sta bevendo il vostro sangue, a sua volta si ferisce per sanguinare e vi fa bere il sangue del vampiro. In questo circolo di sangue è lì che si crea un nuovo vampiro. Già in questo fumetto ci fanno vedere che è quasi una scelta della vittima. La vittima sceglie se suggellare un patto con il demone, non mi riferisco al vampiro, ma a quello che c'è nel sangue. La vittima sceglie se accettare di diventare un vampiro o soccombre alla morte. In questa scelta, in questa lotta tra l'anima, appunto l'anima umana della vittima e il demone che sta nelle vene di un vampiro, Xander si trova in questo momento. Quello che però capitava nel telefilm era che la vittima moriva e poi rinasceva come vampiro, oppure moriva e basta. Qua invece vediamo un Xander che non è morto, ciò nonostante sembra quasi che si trasformi comunque in vampiro, ha comunque la faccia da vampiro, e fino a lì, vabbè, ci può stare una piccola variante sul tema. Si scopre che appunto per salvarlo c'è una specie di rituale, tra l'altro che a me ha ricordato tantissimo il rituale per mettere un'anima umana all'interno di un vampiro, quindi la sola idea di avere un Angel Beast nel personaggio di Xander mi sembrava davvero assurda, non avrebbe senso, avremmo una copia sfigata di Angel che è un personaggio ben più carismatico, sempre ammesso che lo sarà anche in questa versione del fumetto. Non succede proprio questo, succede una cosa però forse anche comunque altrettanto brutta, ovvero vanno alla ricerca di questa pietra dell'anima appunto per salvare l'anima di Xander, le informazioni tra l'altro vengono date da questa Anya che possiede il Magic Shop, tra l'altro non viene nemmeno visto in scena l'incontro tra Buffy e Anya, il primo incontro tra Buffy e Anya non viene visto, vediamo Buffy che torna da Jais ed è già stata da Anya a reperire informazioni, è orribile, doveva essere visto sulla scena una cosa così perché sarebbe stato molto importante in futuro. So che per chi non ha mai letto Buffy è anche giusto introdurre Anya molto lentamente e farla arrivare pian pianino più avanti, come è giusto che sia, però per chi ha letto Buffy un incontro fuori scena di due personaggi così importanti è davvero brutto da sostenere. Buffy e Willow finalmente vanno da questo demone che pare sia in possesso di questa pietra per salvare appunto l'anima di Xander ma poi si scopre che in realtà questa pietra si crea spaccando l'anima di un'altra persona ed è qui che pescano ancora un po' da quello che sarà il futuro della storia di Buffy perché è Willow, eterna migliore amica di Xander, che sacrifica un pezzettino della sua anima per poter salvare quella del suo migliore, del migliore amico. Ora, in questa incarnazione fumettosa abbiamo già una Willow dichiaratamente lesbica che ha una fidanzata, dichiaratamente quantomeno nella scuola con i suoi amici, ha una fidanzata, sembra quasi che qua ci sia un discorso al contrario, cioè questa Willow pare si sia dichiarata lesbica per nascondere probabilmente invece l'amore eterosessuale per il suo amico Xander. Potrebbe essere un bellissimo plot twist, vedremo se questa cosa andrà avanti, ma in questo numero viene un pochino accennato da Buffy e basta. Quello che invece viene approfondito è appunto il fatto che Willow rinuncia a parte della sua anima e questa è una premessa che spiana la strada al fatto che Willow pian pianino si informerà, studierà la stregoneria, la wicca, per poi in futuro, dato che ha un'anima spezzata, come vi ricorda qualche altro, qualcun altro, qualche altro nel mondo magico che si è spaccato l'anima ed è diventato cattivo, può essere che questa Voldemort Willow in futuro diventi la Dark Willow che abbiamo visto nella sesta stagione proprio a causa di quest'anima che si è spezzata per il suo amico ed è proprio per questo che magari anche nel fumetto verrà salvata da Xander stesso come nel finale della stagione 6 perché è Xander a possedere il pezzo di anima mancante, quindi queste premesse a me piacciono tantissimo. Quello che non mi è piaciuto è vedere uno Xander cattivo, uno Xander vampiro in un contesto dove sapremo a breve ci saranno almeno altri due vampiri in squadra, non ha senso avere anche Xander vampiro. Vampiro non ci diventa a tutti gli effetti ma diventa qualcosa che nell'universo di Buffy finora non è mai esistito, un mezzo vampiro. Mezzo vampiro, mezzo umano, perché appunto il rituale di generazione, di vampirizzazione è stato bloccato da questa pietra dell'anima. Ora, il vampiro è già un mezzo demone, è un mezzo demone e mezzo umano, questo è un vampiro, è un demone nel corpo di un umano. Ora, non è strano che ci sia un mezzo vampiro, mezzo umano, non ha senso, è un altro modo per dire che c'è un vampiro buono. Che differenza c'è con Angel, che differenza ci sarà con Spike, sempre che Spike possa diventare buono in futuro. È molto confusa la cosa, è stata buttata lì. Spero che questo lato vampiro di Xander venga epurato totalmente al più presto, quantomeno prima di vedere una copia appunto di Angel, prima di avere troppi vampiri buoni in giro. Può essere che serva all'inizio. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, hanno introdotto Angel non come speravo, quindi non fa nulla di attivo, non salva Xander, non lo vediamo assolutamente per tutto questo numero, lo vediamo, quindi la copertina è anche un po' truffaldina, qua sembra che Buffy e Angel si conoscano nella festa di Halloween. Tra l'altro io ho visto Halloween, ho sperato ci fosse una citazione alla fantastica puntata della seconda stagione di Halloween. Invece è solo una normalissima festa appena accennata in cui un Angel, presumo un Angel mascherato, quindi non lo vediamo in volto Buffy non vede chi è, salva, scusate, conosce, incontra Buffy, fanno due chiacchiere, lui tiene la maschera addosso perché è Halloween e poi se ne va. Finisce lì. Molto carino il fatto che la maschera che indossa sia di un diavolo, però poteva esserci un incontro in cui Buffy viene colpita appunto dalla bellezza angelica di Angel, qua invece questa cosa non succede, a meno che non vogliono introdurre Angel davvero in modo col contagocce, in modo così graduale che ci darà quasi l'idea che Buffy non provi niente per una persona che conosca, che veda così poco, per poi invece diventare quello che sappiamo, la storia d'amore importante di Buffy. Però per ora questo primo incontro tra Buffy e Angel non mi è piaciuto. L'episodio di Halloween è diviso in tre, la parte in cui Buffy e questo rinato Xander sono alla festa di Halloween e appunto incontrano Angel, la parte in cui Giles e Jenny Callender sono all'inaugurazione della mostra della madre di Buffy, Joyce Summer, in cui c'è un manufatto antico che fa gola anche a Spike e Drusilla e questa è una parte molto importante, forse la parte più bella di tutto il fumetto, e poi un'ultima parte in cui si sa che Willow non è alla festa, probabilmente perché pare non stia bene, perché da quando si è spaccata l'anima per darla a Xander è diventata totalmente apatica, a differenza di Xander che invece prima era molto paranoico, molto insicuro, mentre da quando è diventato questo mezzo vampiro sembra lo Xander gioviale che tutti conosciamo nel telefilm. Tutte queste tre storie si uniscono nel finale in cui appunto Drusilla al museo si appropria del pugnale, questo manufatto che cercava al museo, sembra che pugnali Spike, che è consapevole di questo rituale, come se pugnalando il suo amato crei un rituale che apre la bocca dell'inferno. Noi esperti di Buffy conosciamo la bocca dell'inferno, questo è il sigillo che si vede solo nella settima stagione che è sotto la scuola, questo sigillo si incendia generando un vero e proprio incendio e un terremoto nella scuola dove Buffy stava facendo la festa di Halloween. Questo segnale, Buffy con i suoi poteri da cacciatrice percepisce che c'è qualcosa di sovrannaturale, lo percepisce anche Xander perché ha un legame con Drusilla. Non so se vogliono dare Xander un pochino di forza, non so se vogliono dare Xander le nozioni militari che avrebbe avuto con l'episodio di Halloween. Fatto sta che lo percepisce anche Willow perché Willow era a casa per praticare un rituale magico e vediamo finalmente la splash page che ci avevano già anticipato nello scorso numero di Willow che sta facendo un incantesimo con una maglietta con scritto bruja che vuol dire strega in spagnolo. Questo è proprio parte della storia se ci fate caso, è parte della storia perché c'è una didascalia. Pare una cosa carina, appunto ripeto non mi sono piaciute molto alcune cose, mi è piaciuto molto il ruolo di Robin Hood, scusate Robin Wood perché sennò sembra un'altra cosa, che appunto dovrebbe essere il figlio di Nicky Wood, la cacciatrice che Spike ha ucciso negli anni 70 nel telefilm, però magari qui non ha ancora ucciso la madre di Robin. Robin pare essere il membro esterno della gang che non sa nulla ma in realtà sa qualcosa, è in contatto con il consiglio degli osservatori che gli sta dicendo probabilmente di fare qualcosa, probabilmente di collaborare con Buffy o peggio di spiare Buffy. Questo ruolo, questo personaggio così rivisitato mi è piaciuto un sacco. Tra l'altro il personaggio di Robin Hood anche sembra che abbia un piccolo interesse amoroso per Buffy, ricambiato tra l'altro, e quando l'Angel mascherato da diavolo chiacchiera con Buffy, Robin Hood lo nota e gli dà fastidio. Quindi il fatto che ci potrebbe essere un triangolo tra Robin, Buffy e Angel è molto interessante. Chissà se Buffy preferirà Angel come nel telefilm oppure preferirà Robin. È molto bello che ci sia un personaggio umano per la quale Buffy possa provare qualcosa, perché nel telefilm non c'è mai stato. Poteva diventare Xander nella quarta stagione, hanno deciso diversamente. Mentre sembra quasi che Xander, che appunto aveva invece un interesse amoroso per Buffy non ricambiato, da quando è diventato mezzo vampiro, scusate non riesco a dirlo, pare che gli sia passata anche la cotta, pare che sia diventato l'amicone di Buffy. Quindi non lo so, da un lato hanno accelerato la trama di Xander, da un lato hanno messo Robin, alcune cose belle. Allora, in generale questo numero non mi è piaciuto. Mi piacciono alcune premesse finali, ma non è come il primo numero che ho recensito il mese scorso, che mi aveva davvero dato molta hype. Qua è stata spenta totalmente. Ci sono alcune premesse carine. Aspetterò appunto che esca, o se è già uscito scrivetemelo voi nei commenti, magari ne sapete più di me, aspetterò che esca il prossimo numero. Recensirò anche il prossimo numero, però francamente, se anche il prossimo numero non mi piacerà, non so se andrò avanti. Vi ricordo sempre che invece andrò avanti, tempo permettendo, occasioni permettendo, a guardare il telefilm di Buffy, di cui sto facendo un bel rewatch, cioè me lo sto riguardando dalla prima puntata, insieme a voi sul mio canale Viola. Tra l'altro adesso che c'è, appunto l'ho detto anche all'inizio, adesso che c'è anche Amazon Prime Video legato al sito Viola, c'è la possibilità che chiunque di voi abbia Amazon Prime Video possa innanzitutto regalarmi un abbonamento senza spendere nulla sul mio canale Viola. Un abbonamento del sito Viola, non un abbonamento di Prime. Io quello ce l'ho. L'altra cosa è che se voi avete Prime Video, potete guardare insieme a me proprio quello che sto guardando senza bisogno di avere due schermi, di avere dei dvd, fare cose illegali. No, Buffy è su Prime Video. Buffy lo possiamo vedere assieme sul mio canale Viola, con me che lo commento. Non volete sentirmi? Mi mettete muto, alzate il volume e guardate Buffy, per i cavoli vostri, sul mio canale Twitch. E chiacchieriamo. Con questo è veramente tutto. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.